Siamo tutti affezionati perché ci sono sempre, quando c'è una bella gara loro ci sono, sono particolarmente partecipi di tutto il sistema corsa e sono il nostro amico Mario Murtas, zio Mario Murtas, attenzione, zio Mario Murtas insieme a Virginia, vero sì Virginia, bene arrivato Mario, come va? Quante anni hai fatto tu? Di costa? 7, 8, 9 Per motivi di età, perché sennò lo prendevamo alle scuole elementari anche questo ragazzo, vero? Ehi, no, proprio Senti, lei è invece il tuo navigatore da un po', mi pare Questa è la seconda gara che si fa insieme Avete trovato sintonia, vi state... Sì, sì, deve essere un po' più maliziosa però Come fai ad essere più maliziosa adesso? Perché tu non mi puoi buttare l'anno così e sperare che io lo lasci perdere Cosa vuol dire che devi essere più maliziosa? Dimmelo No, no, chiedete a lui, io non parlo Io sono solo contenta di correre con zio Mario perché anzi mi ha dato la possibilità per la seconda gara di correre con lui Quindi sono felice così Ecco, adesso tu quando gli dai le note, fra una nota e l'altra, chiediglielo Eh? Fatti dire, cosa vuol dire che devo essere più maliziosa? Destra 3, capito? Tu gliele chiedi così, vengo, arrivo, aspetta eh Perché adesso lo dice perché deve essere più maliziosa Intendo dire maliziosa perché il navigatore è quello che gestisce il pilota Di non lasciarmi fare di testa mia, che ne esce fuori qualcosa di peggio Lo puoi ridire? No, si può commettere uno sbaglio se si fa di testa sua Ah certo, che ci deve essere sintonia di intenti Oh, molto bene, ma questo mi pare il minimo, no? Il fatto è che lei è molto giovane quindi devo dire che tu giochi la carta più importante Perché è la carta dell'esperienza Ce dobbiamo andare, ce l'ho data la tabella Ciao Vai, ciao, è stato un piacere vederti, alla prossima Murta Smoncini con la bella Virginia, giovane Sì, è stato un piacere vederti, alla prossima 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 Senti Virginia, tu ieri eri già felice solo per il fatto di essere in partenza e adesso che sei anche in arrivo? Felicissima perché è il primo Costa Smeralda a finirlo, è una contentezza impressionante, unica Unica, zio Mario si è un po' smaliziata dopo questa gara? Eh direi anche troppo eh, non dico più niente alla partenza Hai capito? Sì che devi stare zitto alla partenza, molto bene Vediamo un po' di cosa su, no perché ieri la voleva più smaliziata no? Mi hanno messo in riba, non andar via con quel foglio dove fai Eh ho capito ma devi ascoltarmi, non mi deve prendere il foglio Siete soddisfatti di questa giornata, di questo fine settimana in Costa Smeralda? Siamo soddisfatti, è bellissimo, ci siamo divertiti ieri sera a luglio e oggi Siamo andati in posto, tutte le prove, non a parte una noia meccanica, ci stanno Ieri avete fatto la prova a Cagnigione che è una scheggia Era una scheggia, dico non vuoi, non li hai visto tutti Ah no ti ho visto io, ero lì che raccontavo di voi, insieme a Renato Eri una scheggia, veramente incontrollabile Eh aspetta, ma ho vinto l'oro o le coppe? Ah le coppe? Di ruolo ragazzi, di ruolo Le coppe, Mario Murdas, rientra in riva, prendi le coppe e sparisci Ecco qua, consigliere le coppe Sono tutti uguali, tutti uguali, non c'è via di salvezza Non, non, mi salverò La prossima, mantaloni alle cammini Dai forza, bravi Foto, applauso e saluto